Io i video non li so più fare, io sto giocando una mappa di Silent Hill 4, una mappa di Silent Hill 4 bellissima, con un paka punch, e siamo nella stanza di Henry, e chi ha giocato Silent Hill 4, bravi, capirete quello che dico, e chi non l'ha giocato sti cazzi, mi dispiace, giocatelo e poi riguardatevi il video, oddio no, prima guardatevi il video, poi le cose le capite dopo, giuro che non faccio spoiler, e non è vero spoiler, comunque, a parte le boiate, prendiamoci il quick revive, siamo nella stanza del carissimo protagonista Henry, è una mappa che secondo me sarà una bella merda, Lo capisco dal fatto che il televisore a tubo catodico che c'era qua, è stato sostituito con un cazzo di televisore curvo da gaming, managgia il cazzo, wide, incredibile, pazzesco, ok, tutto questo su un, no un comodino, come cazzo si chiama, questo coso qua con i cassetti, ragazzi l'italiano non lo conosco io, ci sono tante belle cose, queste sono nelle foto di Black Ops 2, mi piace, fantastico, vorrei vedere io due cose, numero uno, non possiamo spostare il, cazzo va qua, E guardare la simpaticissima Eileen, seconda cosa, posso, ah qua per finire il gioco 50k, qua per aprire 500, sicuramente dovremmo andare in bagno, ah zero punti infatti per aprire, vedete, olè, e così iniziamo il gioco, qua c'è un buco, il buco non me lo ricordavo proprio così nel gioco, però va bene, va bene comunque, è una mappa che sicuramente ragazzi farà schifo, però è un po' che non faccio video, quindi mi va bene fare mappe di merda, Sarebbe stato figo se avesse fatto il creatore che i zombie uscivano tipo da lì, dalle fottute pareti, come nel gioco originale, che con le maledizioni ti uscivano da sotto il culo i zombie, però va bene anche così dai Abbiamo detto 50k per aprire la porta, sai la mappa è un po' piccolina, quindi io direi iniziare ad aprire subito tutte le porte possibili, qua c'è la corrente, che culo, va bene, ovviamente ragazzi non l'ho giocata e non c'è nemmeno una guida su l'easter egg, eh ovviamente, adesso capisco perché, però mannaggia il cazzo una radio, c'è la radio del gioco, qualcosa, uh, cioè cos'è? Perché la planimetria della stanza è uguale e quindi ci ha messo il nome di Silent Hill 4, ok, capito, no? Chiaro, bellissima come idea, 750 costa quell'altra porta, non so parlare, eh, quell'altra porta, quell'altra porta, eh, ok, dobbiamo, dobbiamo aprirla, dobbiamo aprirla, ma io prima farei una bellissima cassa, oh, che cazzo mi prendi a 40 km? Ah, così abbiamo uno sciva ragazzi, vedete che fare cassa è sempre utile, forse che muoio, mamma mia, domani mi sveglio freddo, ah, facciamo un'altra cassa, ti prego, ti prego, ti prego, oh, il Banshee, vaffanculo gioco, domani ti muore la madre, allora, visto che non abbiamo trovato armi, il gioco ci ha detto no, eh, possiamo, non lo so, piangere, provare a farci un altro po' di punti, non c'è nemmeno un'arma a muro, ma porca troia, oh, oddio, spell, gobblegum, è vero, posso prendermi, posso prendermi always don't shift, che non la voglio, mannaggia il cazzo, ma pure io non potevo giocare Isle of Tulu, no, perché devo farmi gli easter egg, devo portare gli easter egg sulla mappa di Isle of Tulu, quindi per favore lasciate un like se volete vedere gli easter egg di quella mappa, perché io ci devo mettere, ah, 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 a giocarla pertanto, e quindi è un po' palloso, io vorrei prendere quel doppi punti, mannaggia voi, mamma mia che schifo di arma, il Banshee, no, non uccidere, oh, fammi fare il giro, oh, oddio, si gode, porca troia, quest'arma quanto fa schifo, mamma mia che schifo, ma teoricamente qua noi non possiamo aprire, eh, in qualche modo, no, non possiamo aprire, oh, spoiler tra l'altro, eh, eh, non possiamo aprire, è un muro, è ovvio, è ovvio, è ovvio ragazzi che non si può aprire, non, io devo, vabbè, tanto che cazzo, se non l'avete ancora giocato Silent Hill, sti cazzo, non lo giocherete mai, quindi, qui, bellissime le finestre murate, mi piace, mi piace un sacco, oh, oh, che cazzo è, quanto salgono veloci da lì, allora, apriamo qua, ma il letto me lo ricordavo un pochino più grande, non mi sembra un letto matrimoniale questo, ok, qui, sempre murato tutto, qua non possiamo fare assolutamente nulla, non ci sono quadri, però qua c'è un Wunderfiz, mi piace, F per chiamare, ho chiamato, c'è un bambino che piange, non è stato micchiato abbastanza, che cazzo piange? Dai, ora si apre qua, no, oh, e basta, hai rotto il cazzo a piangere, bambino in me, stai zitto, ma spawnono solo da lì i zombie? Sì, spawnono solo da lì, si gode, allora, dobbiamo farci anche, prenderci anche perk, oh, ho capito che lo sta squartando il bambino, va bene, comunque, facciamoci il Wunderfiz, che ci dà il PhD, grande, bellissimo il PhD, perfetto, il mio perk preferito, ma tipo lo zombie? Allora, oh, la double tap, questa è buona davvero, però, però io vorrei un jug, ma dov'è l'ultimo? Aspetta, gli butto una granata qui, noto quante granate, ok, era rimasto bloccato lì sotto, buono che abbiamo tirato le granate, 50k, 50k, sono assai, cioè che poi, paradossalmente, penso che le posizioni di queste catene siano giuste, ma poi alla porta non ha messo lo spioncino, cioè, ma panneggia il cazzo, mamma mia, Vortex, Vortex, per favore, la fai una mappa di Silent Hill 4 tu, ti prego, dai, guarda che è sta roba, non ci passo nemmeno alle porte, manco le porte sono grandi il giusto, ma che è? Eh, ma ti devi mettere di lato per passare in una porta, un saluto al creatore della mappa che sta guardando il video e che è felice che io stia giocando la sua mappa, eh, assolutamente, si guarda tutti i miei video questo creatore, questo lavandino non l'avevo visto, è un po' fuori luogo, c'entra un cazzo qua, che è il lavandino, ma poi è pulitissimo, e io tra l'altro spero che audio e tipo tutto quanto sia a posto, perché, perché in realtà potrebbe non esserlo, vabbè ragazzi, mi sopporterete, questo sarà il video più brutto del canale, e va bene così, continuiamo a fare perk per cagoso qua, tanto adesso mi da il wusu, te lo vuoi ficcare in culo, ma tipo, prepotentemente, ma veramente non c'è, non c'è nulla da fare, tipo, qualche easter egg, qualche cosa, non c'è niente nella cazzo di gioco originale, non saprei nemmeno dove prendere, easter egg, apro il frigo, questo è un frigo, non l'avevo nemmeno capito che era il frigo, sono andato qui perché mi ricordo che nel gioco c'è il frigo, ma questo non è, ma non è un frigo! Facciamo un'altra cassa, sperando di trovare qualcosa di decente, dammi una reagan, perfetto, grazie gioco, domani muori, oh però, devo dire che con la pistola iniziale in realtà i punti si fanno, e non è male per nulla, oh, oh, non mi uccidere, non mi uccidere mentre c'è i stagli che veramente poi mi prendono in giro nei commenti e mi dicono, ah Palma sei il più scarso d'Italia, morite, bastate, ok, continuiamo a farci per cagola, sperando che ci dica qualcosa di decente, ci darà il wusu, il wusu, il wusu, qualcosa di decente, eh, tu che hai, la mamma puttana tu che non, ok, continuiamo a fare il cazza fa, il Wunderfit, no, lo sciacallo, oddio, in realtà lo sciacallo non è male, buono, non c'è il limite di perca, almeno la mamma puttana del creatore, allora, con lo sciacallo cosa vediamo? Lì non vediamo nulla, quindi non c'è niente, cioè questo gioco l'ha giocato, ha giocato solo all'inizio, sono abbastanza sicuro che il creatore della mappa nemmeno sappia che ci sia, non devo dire nulla, sono abbastanza sicuro che il creatore della mappa non sappia quello che succede nel finale di gioco, ok, lo metto così che almeno meno evito di fare spoiler troppo grandi, continuiamo a fare Wunderfit, oh, Electric Cherry, si gode, adesso c'è il limite a quelli che ho preso, come perca, comunque il brecci non è male come arma, però, però, sai che è divertente se spawna tipo, non lo so, un mar qua qua, no, oh, oh, io ho tirato la granata, io ho atterrato in te, mamma mia che goduria il, sì, il Wunderfit, ok, non so parlare, non so niente di Call of Duty Zombies, che cos'è, un gioco? Continuiamo a fare Wunderfit, tanto ormai voglio tutti i perk, dovrei anche pensare a farmi delle armi decenti, perché tra un po' non uccido, oh, il deadshot, ok, è risolto, ragazzi, tranquilli, non ho bisogno più delle armi, per fortuna ho il mio perk preferito, nonché è il perk migliore di Call of Duty Zombies, e chi dice il contrario è perché non ha mai giocato Call of Duty Zombies, oh, la stamina, per minchia, per fortuna, oh, per spostarmi in questa mappa enorme era necessaria, devo disattivare pure la chat vocale, perché, mannaggia, il cazzuccio, la chat vocale è attiva, dove si ha dis, dove, qua, online holly, ma allora perché mi compare ogni tanto che in alto a sinistra parlo? Adesso non compare più, eh, ho fatto la figura di merda, ok, sì, va bene, scusa il gioco, prendimi pure per il culo tanto, allora, io però vorrei fare un'altra cassa, perché voglio un'arma buona, ma in realtà io potrei pagapanciare le Mustang, cioè prendermi le Mustang e Sally, i bungee, vabbè, tanto, tanto non c'è il pericolo che trovo un'arma, ragazzi, piccolo reminder del fatto che io continuo a non avere il jug, oh no, oh no, i zombie sono rimasti bloccati là sotto e io non ho granate, oh, il Widow, il Widow, il Gode, oh no, non devo più tirare le granate, oh, il jug, non devo più tirare le granate, ragazzi, perché, allora, io, io ho paura, però lo farò, lo farò per il content. Ok, ok, non crasha, non crasha, ragazzi, non crasha, non lo farò più comunque, ho paura che crashi lo stesso, facciamo una bella cassa, eh, ci dà il faro, il faro, vabbè, sai però, in realtà, oh, ma non spara dritto, ma no, sono io che non sono capace a sparare o il faro che non spara dritto? No, ok, sono io, sono io che non so sparare, ok, abbiamo finito praticamente le munizioni del faro, quindi facciamoci un'altra cassa, perché veramente, se no qua non, 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 non finiamo più, il P-Skipper, oddio, ma in realtà questo, questo non è mai, oh, oh, calmi, calmi, con calma, continuiamo a farci i Wunderfits, vediamo cosa è rimasto, ah, il, 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 poi questo è il Wusuu, sì, 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 è il Wusuu davvero, vabbè, il mio cervello sta funzionando, ma ragazzi non ci fate caso al fatto che, però sono completamente andato, sì, 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 ah, comunque, per chi se lo stesse domandando, sono rimasto fermo, senza fare video, compresa la campagna di Black Ops 2, perché quelli erano video che avevo pronti da prima, e mi sono dedicato un pochettino agli esami, all'università, adesso però, sinceramente, soprattutto considerando che alla fine di questo mese, c'è la bellissima beta di Call of Duty, di quello, quello nuovo, col sei vicino al nome, e, allora, sì, dovrà nerdare, per forza, e ci saranno anche le live, ovviamente in occasioni particolari, live così a cazzo di canale, non lo so se le voglio fare, per ora, perché, sì, perché voglio concentrarmi un po' di più sui video, per ora, per ora, in futuro quella cosa potrebbe cambiare, ma per ora, preferisco concentrarmi sui video, mi diverte di più farli, nonostante sia un po' più palloso, in ogni caso, trovate il Twitch in descrizione, nel dubbio un follow, lasciatemelo così, giusto per dire, sai, no, gli faccio questo favore a Palm, sono due click, rego Palm, grazie. Vediamo la mimetica del Pagavance, che sarà sicuramente stupenda, vaffanculo, creatore, domani, domani muori, domani, godo, ti devono squartare, voglio morire, voglio morire, bruciato nel fuoco, perché, questa mappa è una merda, questa mappa va veramente schifo, fammi fare questi 50.000 punti, finire di giocare, perché, tra un po' mi ammazzo davvero, tra un po' mi ammazzo, in game, ovviamente, YouTube, in game, che succede se tiro una scimmia, non posso, non posso, no, non la posso, la posso, tirala, Palm, ma non si vedeva che questa mappa era una merda, anche dalla preview, sì, e allora, perché la stai giocando? Perché, perché è la mappa di Silent Hill, c'è scritto Silent Hill e quindi io la gioco, fine, è molto semplice, guarda che bello questo specchio, sembrano dei fogli di carta, ma che cazzo è? Facciamoci un'altra cassa, più che altro perché abbiamo bisogno di un'arma o i proiettili, tipo l'M1927, va benissimo, visto che le Mustang e Sally sono buone, ma noi abbiamo bisogno di fare punti, ah, continuiamo così, molto divertente, oh, e giustamente troviamo le munizioni, appena scambiamo le armi forti, troviamo le munizioni, mi piace, grazie gioco. Niente, potevano fare veramente tante cose fighe, cioè, tipo, nel tempo la stanza diventava tutta quanta nell'other world, tutta, tutta storta, piena di sangue, no, no, la stanza è normale, cioè, praticamente siamo qua, così, chiusi, vabbè, perché non abbiamo la chiave. La cosa più figa e più inquietante, so, i mattoni fuori dalla finestra così, cioè, quello è figo, però tutto il resto no, cioè, bello a cercare. Oh, ma ve lo immaginate, tipo, il Silent Hill 4, il Pagapancio, questo qua, cioè, tipo, che Harry, Pagapancia, andava a sparare in faccia a Sullivan, così, di cattiveria, e va a Stang e Sally. Però, almeno, il gameplay di questa mappa è avvincente, è uno dei gameplay più emozionanti che abbia mai provato. Potrei giocarci senza mouse, mamma mia, che divertimento, sta venendo voglia di, non lo so, mettermi il mouse in qua. Oh, però, dai, doppi punti e mancano solo 10.000 punti, dai, 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 dai. Finiamola, ti prego, ti prego, voglio finirla. Dai, per favore, per favore, per favore, finiamola. Vabbè, visto che non siamo riusciti a finirla adesso, giusto per completezza, per i miei problemi mentali, insomma. Non avevamo preso tutto, non avevamo preso tutti i perk, ho fatto bene, allora. Oh, ma dove cazzo sei uscito? Il mio il dick, avevo proprio bisogno di te. Mamma mia, quanti cazzo di perk che c'erano ancora? Allora, Tombstone, ok, sì, 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 mi piace. Un altro, un altro zombie spuntato al nulla, aiuto, aiuto. I busuo, mi piace, mi piace. Poi, basta, li abbiamo finiti. Sì, ogni volta che chiamiamo c'è sempre il bambino in merda che piange, vabbè, un like. Teoricamente non dovremmo avere problemi a finire la mappa, teoricamente. Ok, ci siamo quasi, teoricamente dovremmo potercela fare se buttiamo una scimmietta così. Facciamo uno zombie, cattiveria, e ne accoltelliamo un pochettino. Buttiamo un'altra scimmietta che tanto la sono, sono... Ah, vabbè, finito il round. Finiamo anche la partita. Non c'è nemmeno una scena finale. Quella porta... Che mappa del cazzo. Che mappa del cazzo.